Ciao, sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Oggi vi propongo un'altra chiacchierata con voi mentre passeggio per parlare un po' di un tema che mi sta a cuore e che mi ha appassionato nel corso degli anni, anche se non sono assolutamente un esperto. Allora, quanto è importante la nostra privacy? Io ricordo ancora i tempi in cui su internet, e diciamo che erano ancora gli inizi di internet, chiunque cercava di rimanere il più anonimo possibile, ognuno si sceglieva un suo nickname e nessuno si sarebbe mai immaginato di lasciare che il mondo intero, multinazionali e agenzie governative, venissero a sapere qualcosa sul nostro conto. Oggi sembra che la situazione si sia completamente rovesciata. Se qualcuno si presenta su internet con un nickname, viene a volte addirittura attaccato da persone che dicono ma come? Non ti presenti con il tuo nome e cognome? Non hai il coraggio di metterci la faccia? Semplicemente assurdo. Ma l'essere umano è un essere influenzabile, purtroppo manipolabile, lo sappiamo. Quindi si è lasciato manipolare nel corso del tempo. Prima di Edward Snowden, in pochi immaginavano fino a che punto la nostra privacy viene calpestata e fino a che punto di spionaggio siamo arrivati. Poi abbiamo appreso qual è la realtà dei fatti grazie a Snowden e sì, all'inizio ci siamo rimasti scioccati, è stato uno scandalo ovviamente, ma poi abbiamo imparato ben presto a rinunciare al valore della privacy. Davvero un peccato. Chi trattava questi temi prima di Snowden veniva quasi considerato un complottista, quindi la privacy era ancora un valore irrinunciabile. Ma oggi si tende a dire che la privacy non esista più, penso che la maggior parte delle persone credano che riconquistarla al giorno d'oggi in un mondo ipertecnologizzato sia impossibile. No, non è assolutamente così. Certo, per raggiungere il 100% di privacy, come il 100% di sicurezza, bisogna essere disposti a fare dei sacrifici, quello sì. Ma altrettanto sicuramente esistono tanti piccoli passi, semplicissimi, che ognuno di noi può fare. Sono dei passi alla portata di tutti, non bisogna essere assolutamente degli esperti. Di cosa sto parlando? Beh, ci sono tanti esempi. Allora, diciamo che state navigando su internet, state effettuando una ricerca sul motore Google e nel frattempo siete logati su un qualche sito, ad esempio su Gmail oppure su YouTube. Bene, questo è sbagliatissimo. Dovreste effettuare il logout, chiudere il browser, cancellare i cookie, quindi cancellare le tracce e poi continuare con le vostre ricerche. Andrei sinceramente ancora più avanti sconsigliando il motore di ricerca Google e consigliando invece un motore di ricerca che non vi traccia, DuckDuckGo. Quindi utilizzate DuckDuckGo e le vostre ricerche non vengono tracciate. Semplicissimo, che ci vuole? Rimanendo in tema browser, potreste installare un plugin per bloccare gli javascript. Sto parlando di NoScript, ad esempio. Installate NoScript e in questo modo aumenterete non solo la vostra privacy, ma anche la sicurezza mentre navigate su internet. Semplicissimo, cosa ci vuole? Poi potreste addirittura navigare in modo del tutto anonimo e quindi nascondendo il vostro indirizzo IP e per farlo è semplicissimo, basta scaricare il browser Tor alla portata di tutti. A parte Tor è possibile anche cambiare un sacco di impostazioni ad esempio su un browser come Mozilla Firefox per aumentare la privacy e diminuire l'impronta digitale lasciata sul web. Vi consiglio di andare sul sito Privacy Tools e seguire le istruzioni. Non volete farlo? Vi sembra troppo lavoro? Benissimo! Allora, rivolgetevi ad un browser web che per impostazione predefinita è molto più privacy oriented. Ad esempio Brave. Per usare Brave, beh, che ci vuole? Lo scarichi, lo installi e lo usi. Semplicissimo! Poi potremmo parlare ad esempio di app di messaggistica. È davvero un peccato che per la messaggistica usata normalmente per motivi futili rinunciamo alla nostra privacy. Perché dobbiamo tutti utilizzare Whatsapp? Basterebbe che tutti scaricassimo ed installassimo Signal e avremmo risolto il problema della privacy nell'ambito della messaggistica. Eppure so benissimo che se io mi mettessi a consigliare in giro Signal mi scontrerei contro un muro di persone che mi direbbero ad esempio beh, io non ho intenzione di installare un'altra app sul mio smartphone oppure ma scusami, tu per consigliare Signal vieni pagato? Hai un tornaconto personale? Assurdo! E quindi continuiamo tutti ad utilizzare Whatsapp e rinunciare alla nostra privacy. E poi, vabbè, ci sarebbe un mondo a parte per quanto riguarda gli smartphone gli smartphone rappresentano effettivamente un punto debole di tutto questo discorso. Comunque continuiamo a parlare di soluzioni per la privacy. Beh, un buon consiglio ovviamente è utilizzare quanti più programmi open source possibili quanto più free software possibile perché free software rispetta non solo la tua libertà ma anche la tua privacy ovviamente. Cos'altro? Almeno sul lato desktop, su computer potresti passare a GNU Linux o a un altro sistema operativo open source perché il sistema operativo ovviamente è un software che gira per tutto il tempo in cui il computer sta acceso. Tutti gli sforzi fatti per riconquistare la privacy potrebbero venire vanificati dal sistema operativo se il sistema operativo ti spia. Quindi è difficile installare GNU Linux? No, assolutamente no. Comunque se non te la senti puoi rivolgerti a qualcuno che è certamente in grado di installarlo puoi rivolgerti ad esempio ad un Lug ad un Linux user group e questi saranno disponibilissimi ad aiutarti. Cos'altro? Ricordo che quando c'è stato il periodo del lockdown le università e le scuole hanno iniziato ovviamente ad offrire lezioni online ed hanno tirato fuori dal cappello un'opzione mai sentita nominare sto parlando di Zoom. Ora io avrei potuto capire se per inerzia si fosse continuato ad utilizzare Skype che pure non è una soluzione open e privacy oriented ma quantomeno era qualcosa di conosciuto. Se devi tirare fuori dal cappello qualcosa di sconosciuto perché non tiri fuori Jitsy ad esempio? Una soluzione open? Non lo capisco. Bene. Su smartphone cosa puoi fare? Ovviamente le stesse cose che ho detto sul desktop utilizzare DuckDuckGo come motore di ricerca utilizzare Signal come app di messaggistica poi il problema principale viene rappresentato da Google esistono delle custom ROM dei sistemi basati su Android però de-googlizzati completamente senza Google sto parlando di Lineage e OS o Graphene OS sono delle soluzioni ovviamente molto più privacy oriented per quanto mi riguarda mi sto rivolgendo ad un Linux phone quindi cerco di risolvere in questo modo vi farò sapere sul mio canale sarà sicuramente una bella avventura cosa ho fatto io a livello desktop? beh sì ogni tanto uso Tor Browser per navigare in modo anonimo comunque indipendentemente da esso ho le mie belle impostazioni su Firefox che lasciano una impronta digitale assolutamente minima chiudo spesso i browser cancellando i cookie i cookie non vengono assolutamente salvati la cronologia nemmeno per cui lascio ben poche tracce sul web capitolo a parte social network beh che ve lo dico a fare sarebbe meglio non utilizzarli cos'altro? utilizzo GNU Linux tra l'altro distribuzioni 100% free e raccomendate dalla Free Software Foundation quindi là vado sicuro che non ci siano dei vector o simili o software che ti spia ho anche sostituito il BIOS del laptop con Libreboot quindi anche lì sono sicuro di potermi fidare al 100% un problema viene rappresentato dalle email quante persone sanno che le email sono a tutti gli effetti paragonabili a delle cartoline postali in cui le informazioni viaggiano in chiaro chi scriverebbe su una cartolina postale delle informazioni insensibili? nessuno immagino eppure le email vengono spesso utilizzate per motivi di lavoro quindi vi potete immaginare che lì viaggiano vengono scambiate delle informazioni insensibili qualche anno fa ho provato a convincere i miei clienti a crittografare le email non ci vuole assolutamente nulla è semplicissimo basta utilizzare un cliente email come Thunderbird e un apposito plugin tu devi solo scegliere la tua password e le email vengono crittografate automaticamente semplicissimo eppure anche lì mi sono scontrato contro un muro quindi un passo che vorrei effettuare però questo è un passo difficile sarà quello di installarmi un server casalingo per le email quindi sarei il provider di me stesso sarebbe sicuramente interessante e niente raccontatemi anche voi quali passi avete già effettuato quali passi vorreste effettuare e quanto è importante per voi la privacy al giorno d'oggi si dice ma guarda io non ho nulla da nascondere oppure guarda la mia vita è così noiosa che si annoieno pure a spiarmi assurdo come cambiano le opinioni della gente comunque scrivetemi voi nei commenti va bene questo è tutto per oggi ciao da Clarintux grazie a tutti grazie a tutti